Musica Benvenuti all'ATG10, l'apertura oggi la dedichiamo alle indagini febbrili da parte dei carabinieri in merito all'omicidio commesso quasi un mese addietro in pieno centro storico a Gela in piazza Umberto I nei pressi della chiesa madre in un orario di punta e dinanzi a centinaia di persone fu ammazzato il tassista Domenico Seguino gli investigatori stanno lavorando alacremente per dare un volto ed un nome ai killer si indaga però in un clima di omertà finora nessuno anche in forma anonima ha fornito un indizio utile alle indagini sentiamo ai nostri microfoni il comandante provinciale dei carabinieri il colonnello Gerardo Petitto Comandante qualche settimana dietro a Gela si è verificato un episodio cruento ci riferiamo all'omicidio del 56enne Domenico Seguino in pieno centro storico in piazza durante lo shopping natalizio le chiedo intanto a che punto sono le indagini le indagini stanno andando avanti ci siamo fatti un'idea ma c'è ancora da lavorare Se si spara in piazza in pieno centro intorno alle venti dunque di un giorno quasi festivo che significato ha? Vuol dire che la mafia in quell'occasione ha voluto far capire che è presente sul territorio e può sparare a qualsiasi ora e in qualsiasi posto? L'idea che ci siamo fatti non era di un segnale a chi che sia di sicuro nel fare quell'azione si voleva dare un segnale a qualcuno non certo alle istituzioni non era un segnale di tipo terroristico mafioso però di sicuro farlo in quel momento, in quel luogo questa azione ha una sua valenza anche simbolica certamente Come vediamo che l'esecuzione di stile è praticamente mafioso? Lo stile è quello, per dire che sia quello anche il movente è ancora presto Le chiedo, in cosa scavate? Gioco d'azzardo, un delitto passionale, c'è la mafia? Beh, Domenico Seguino ha un passato criminale importante e di sicuro si parte da quello In quel caso la gente che faceva shopping è rimasta sconcertata da quello che è accaduto? Beh, certamente, certamente il fatto è preoccupante e posso garantire che lo stiamo analizzando con la dovuta attenzione Ci saranno risvolti immediati, secondo lei? Non dipende, questo non dipende da me e non siamo comunque ancora al punto da poter prospettare dei tempi Sono in due che hanno sparato perché voi avete anche acquisito le immagini del sistema di disorveglianza in cui si vedono che sono due ragazzi in sella ad un motorino Sì, questo è corretto Sono quattro le denunce scattate da parte del commissariato di Gela nell'ambito delle attività di prevenzione e controllo svolte durante questa settimana Una ventenne nata a Sesto San Giovanni in provincia di Milano ma domiciliata a Gela dovrà rispondere di resistenza pubblico ufficiale lesioni e violazione di domicilio Il fatto è stato commesso a Gela il 25 dicembre scorso Denuncia anche per un giolese di 24 anni per inosservanza dei provvedimenti dell'autorità per guida senza patente perché revocata è stato segnalato un 44enne Denunciato anche un giolese di 23 anni per furto aggravato di un'autovettura Nell'anno bellardita, ieri il Consiglio dei Ministri ha parato delle norme importanti soprattutto in merito al tema dei liberi consorsi dei comuni Sì, ieri c'è stata una seduta del Consiglio dei Ministri nella quale si è dato atto che la regione Sicilia sta adempiendo a quelle che erano le indicazioni che in via informale e anche in via giudiziale con l'impugnativa che comunque ricordiamo ad oggi è ancora pendente da parte del governo in ordine alle modifiche della legge sui liberi consorsi e le città metropolitane E questo cosa vuol dire? Questo vuol dire che il Consiglio dei Ministri ha preso atto che intanto si era bloccata la data del 29 novembre in ordine alle elezioni che erano state indette relativamente alla dotazione dell'organigramma degli enti intermedi e nel frattempo hanno preso anche atto del fatto che dalla Commissione Affari Istituzionali, la prima commissione dell'Assemblea regionale è stato esitato il disegno di legge a firma di Rosario Crocetta nel quale vengono recepite tutte quelle che erano le criticità segnalate dallo Stato E quando Gela entrerà a far parte della città metropolitana di Catania? L'ITER sostanzialmente prevede questo Il disegno di legge con il recepimento delle osservazioni governative approderà in aula all'Assemblea regionale siciliana solo in esito all'approvazione del bilancio regionale Il bilancio regionale prevede per legge che le sedute assembleari siano monotematiche In esito a questo noi riteniamo presumibilmente a partire dalla prima metà di febbraio che il disegno di legge, così come predisposto e così come esitato favorevolmente dalla prima commissione possa approdare in assemblea e possa giungere quindi al completamento Una decisione cieca nei confronti di una storia millenaria che svela quanto poca considerazione sia data al nostro patrimonio archeologico Lo dice il sindaco di Gela, Domenico Messinese valutando negativamente con forte preoccupazione i nuovi assetti organizzativi e organigrammi di tutti i dipartimenti della regione siciliana di segreteria generale in cui il museo e l'area archeologica di Gela perdono l'autonomia a favore di Caltanissetta Battaglia è stata annunciata contro la regione siciliana ed il suo presidente originario proprio di Gela Per l'assessore comunale alla cultura Francesco Salinitro i nostri beni non possono essere gestiti da una città che nulla ha a che spartire con la grandezza e l'unicità della storia Geloa ora neppure come ente territoriale di riferimento Gela ha scelto con una volontà popolare unanime ha continuato il componente della giunta messinese di uscire da Caltanissetta e di entrare nell'area metropolitana di Catania e rivendica reperti propri portati nel deserto del museo Nisseno ed ora occupiamoci dell'incontro che si è svolto a Ragusa sul futuro dell'asta Di servizi, debiti e parco macchine obsoleto sono alcune delle criticità riscontrate dai 14 comuni siciliani in cui il trasporto pubblico locale è gestito dall'asta sul futuro del servizio hanno discusso Ragusa gli enti locali che vogliono segnare un cambio di rotta tra questi il comune di Gela presenta con il sindaco Domenico Messinese l'assessore Eugenio Catania e concorde sulla richiesta di incontrare ufficialmente l'assessore regionale per cogliere le intenzioni del governo e programmare un servizio più efficiente In questi comuni ci siamo preoccupati qual è il futuro del trasporto pubblico nelle nostre città quindi stiamo facendo rete in modo tale di avere delle risposte chiare da parte della regione sui trasferimenti verso questo importante servizio del trasporto pubblico locale trasferimenti che negli anni sono stati sempre più ridotti riducendo di fatto il servizio portandolo ad un livello che in pratica risulta insufficiente e poco pratico quindi abbiamo fatto una valutazione e abbiamo deciso di metterci insieme andare alla regione in modo tale da avere dei finanziamenti certi per dei tempi sufficientemente lunghi in modo tale da poter sviluppare dei contratti per gestire questo servizio anche con altre società in modo tale da tutelare i cittadini che sono i primi fruttori di questo servizio il primo cittadino ha sottolineato come Gela abbia in via di definizione il piano urbano della mobilità sostenibile che integrato ad una nuova visione del trasporto pubblico locale con servizi correlati sarebbe in grado di avviare un nuovo modo di vivere la città grazie ad un trasporto pubblico efficiente ed economicamente sostenibile l'assessore Catania guarda inoltre ad una proficua correlazione con quanto contenuto nei piani d'azione per l'energia sostenibile accanto all'investimento sul trasporto pubblico perché finanziare il trasporto pubblico locale significa migliorare la vita dei cittadini riducendo inquinamento, rumore tempi di percorrenza all'interno della città quindi rendendo la città più vivibile poterla affiancare alla gestione dei parcheggi come anche l'affitto di biciclette il car sharing o andando oltre utilizzare dei sistemi innovativi come i totem informativi che oltre a dare informazioni reali sul trasporto in città possono dare informazioni pubblicitarie che possono dare un'altra fonte di guadagno per poter migliorare il servizio e non avere perdite nella gestione e riprende l'esperienza dei gazebo informativi di FIAB Gela sezione nanocicli preseduta da Valentina Ferrigno sarà un'occasione per i cittadini per incontrare la FIAB sul territorio per conoscere tutte le attività legate alla promozione della ciclabilità urbana della mobilità sostenibile e la salvaguardia ambientale in città a livello nazionale Nell'occasione si potrà ritirare il calendario delle attività 2016 e quanti lo desiderano potranno iscriversi o rinnovare il tesseramento alla FIAB Gela L'appuntamento è previsto per domani dalle 11 alle 12 e 30 presso l'area pedonale dei muretti di Macchitella Il rapporto da sempre squilibrato a sfavore di Gela tra Eni e territorio è il vero tallone di Achille di una città che continua a vivere sotto il ricatto del cane a sei zampe Una volta le minacce erano del tipo non mi fai produrre inquinando tranquillamente allora me ne vado Ora sono diventate del tenore mi fai causa perché vuoi che pulisco ciò che ho sporcato allora rompo tutti gli accordi Qualcosa del genere in realtà sta succedendo a proposito della causa civile intentata dal Comune di Gela al Colosso del Petrolio in riferimento al dramma dei bambini malformati e dei danni causati alla salute dei gelesi per la presenza dell'industria pesante ma non basta a far sentire i gelesi ancora più vessati ci pensano alcune notizie come quella secondo la quale per salvare lo sgangherato consorzio universitario di Caltanissetta tornato ad avere i conti in profondo rosso il presidente della regione Crocetta con l'avallo dei sindacati avrebbe ben pensato di utilizzare Leni e gli accordi su Gela i diretti interessati smentiscono per la verità con poca forza e convinzione ma nel frattempo la polemica impazza aggiungiamo noi giustamente se fosse così in città oppure il progetto di declassamento dell'area museale gelese immensa per reperti e siti a favore del polo nisseno una follia pura se dovesse passare a Lars anche quest'altra pugnalata alle spalle di Gela ordita purtroppo proprio da figli di questa terra e poi la madre di tutte le questioni sul tappeto ossia il protocollo del 6 novembre 2014 che non decolla la riconversione green che rimane nel libro dei sogni e tante famiglie gelesi ridotte oramai alla disperazione di tutto questo si è parlato ieri sera ad Agorà il rotocalco settimanale di Canale 10 se ne è occupato ospitando un parterre di ospiti di tutto riguardo dal deputato regionale gelese ed ex presidente della provincia di Caltanissetta Pino Federico al vice sindaco con delega all'industria Simone Siciliano ed ancora l'assessore al bilancio e affari legali Fabrizio Morello lo storico presidente del comitato per lo sviluppo dell'area gelese Filippo Franzone e quindi l'ingegner Lisciandra consulente per la presidenza della regione siciliana nella stesura del fantomatico protocollo ENI firmato al Mise oramai 15 mesi fa non è mancata poi come al solito la incisiva scheda di Giulio Cordaro dal titolo fuori dal coro chi volesse rivedere questa interessante puntata di Agorà potrà farlo domani sera con la replica integrale che andrà in onda su canale 10 a partire dalle ore 21 oppure attraverso i nostri indirizzi social ossia il sito internet tg10.it ed il profilo facebook di canale 10 Agorà tornerà in diretta venerdì prossimo in prima serata con nuovi ospiti e nuovi argomenti che riguardano come sempre Gela e i gelesi la parrocchia San Sebastiano Martire la casa francescana Sant'Antonio di Padova e l'associazione di Ves in Misericordia con il patrocinio del comune di Gela in occasione del decimo anniversario della morte di Don Franco Cavallo stanno organizzando degli eventi per ricordare il sacerdote morto prematuramente che tanto ha lavorato per i giovani nei suoi anni di docente di religione all'ipsia di Gela e come parroco di San Sebastiano nel quartiere di Settefarine oggi alle 18 presso la casa francescana di Manfria sarà proiettato un documentario con il titolo Il prete della gioia realizzato da Gianni Virgataula seguirà dopodiché la celebrazione eucaristica presieduta da Don Pasqualino di Dio domani invece alle 10 presso la zona d'espansione nord del quartiere Cantina Sociale il Vescovo Monsignor Rosario Gisana ed il Sindaco Domenico Messinese inaugureranno le nuove strade intitolate a Monsignor Mario Sturzo Vescovo di Piazza Almedina e a Don Franco Cavallo alle 11 presso la parrocchia San Sebastiano il Vescovo Gisana presiderà la celebrazione eucaristica animata dal coro Perfetta Letizia da oggi e fino al 24 gennaio prossimo presso il Palazzo Ducale è possibile visitare la mostra fotografica in onore di Don Franco Cavallo realizzata da Franco Pardo in collaborazione con Croci Attardi esporranno gli artisti Gina Pardo e Pino Polara la mostra che è patrocinata dal comune di Gela potrà essere visitata dalle 9 alle 13 e dalle 16 alle 20 tutti i devoti che si accingono a preparare la tradizionale cena di San Giuseppe nel 19 marzo prossimo dovranno recarsi presso la chiesa di Sant'Agostino per potersi registrare lo comunicano i padri agostiniani Si è rinnovato oggi l'appuntamento Open Day dell'Istituto Comprensivo Giovanni Vergara di Gela durante il quale l'Istituto ha accolto coloro i quali si apprestano ad effettuare la scelta per la scuola dell'infanzia primaria e secondaria di primo grado per le iscrizioni dell'anno scolastico 2016-2017 Il piano dell'offerta formativa dell'Istituto risponde all'obiettivo primario di realizzare il curriculum verticale attraverso un ampio ventaglio di proposte didattiche e progettuali innovative che puntano al potenziamento delle competenze linguistico-espressive logico-matematico-scientifiche ed artistiche Sicuramente è una scuola inclusiva una scuola eterogenea una scuola che apre delle prospettive differenti e variegate ma nel contempo complete da un punto di vista interpersonale relazionale e degli apprendimenti è un momento importante dell'anno per le famiglie soprattutto per i genitori che hanno questo senso di responsabilità per la scelta della scuola secondaria di primo grado per i propri figli sembrerebbe alquanto inopportuno parlare di orientamento per la scuola dell'obbligo e invece oggi più che mai rispetto ad ogni piano triennale dell'offerta formativa innovazione di quest'anno secondo la nuova appunto normativa nazionale oggi più che mai sarebbe opportuno anche formare avere dei genitori istruiti sensibili attenti alla scelta dell'offerta formativa di un istituto rispetto ad un altro le aule tutte dotate di lim e di laboratori accoglienti ed attrezzati scientifico tecnologico musicale linguistico arti manipolative e ceramica la biblioteca sono i luoghi privilegiati per promuovere attraverso una didattica laboratoriale ed innovativa un apprendimento emotivo i valori l'ambiente il turismo l'archeologia in un clima di benessere l'istituto offre il potenziamento delle lingue straniere della musica e delle attività motorie con l'intervento di professionalità qualificate per una scuola che punta alla qualità apriamo le porte dell'istituto è un modo per far vedere e vivere ai ragazzi che si apprestano a questa scelta quelle che sono le attività che la scuola non solo finalizzato all'orientamento ma come metodo come prassi educativa e formativa mette in atto proprio per attuare quella che è la nuova didattica una didattica laboratoriale una didattica esperienziale una didattica fatta chiaramente di stimoli e di organizzazione dell'apprendimento e non di esecuzioni di programmi è in edicola il Corriere di Gela settimanale indipendente di attualità politica cultura e sport a diffusione comprensoriale fondato e diretto da Rocco Cerro Alberto Ferro l'orgoglio di Gela un successo dietro l'altro per il giovane pianista gelese che nei prossimi giorni suonerà a Bruxelles ed in Lussemburgo il Corriere di Gela gli dedica meritatamente l'apertura della prima pagina lo ha intervistato nello Lombardo come è cambiata la geografia politica del Consiglio Comunale con spostamenti repentini in altri casi vere e proprie fughe dai partiti per cui si è stati eletti appena sei mesi fa ne riferisce Filippo Guzzardi che firma anche un servizio sulle consigliere debuttanti Giulio Cordaro nella sua rubrica settimanale politicamente scorretto con la sua consueta ironia definisce una presa in giro scientifica la raffineria verde di cui si parla nel protocollo dell'Eni nelle pagine interne altri servizi di attualità e cultura di Nello Lombardo Franco Infurna Elio Cultrano Gianni Virgadaula Franco Lauria Marco Riddio Sebastiano Arnone e Giuseppe Tuccio ed infine lo sport con i commenti di Orazio Comandosi campionati di calcio di eccellenza e promozione chiude il giornale come di consueto la pagina degli annunci economici ed eccoci la seconda parte del telegiornale il Soloptimist Club di Gela bandisce un concorso fotografico dal titolo Le Dune Gelesi rivolto agli alunni delle scuole superiori con l'intento di valorizzare le bellezze del nostro territorio le foto inedite dovranno pervenire entro il 15 marzo prossimo saranno premiati i primi tre classificati il bando di concorso è consultabile presso tutte le scuole superiori di Gela Continuano gli appuntamenti col grande jazz al teatro comunale Eschilo di Gela venerdì 29 gennaio prossimo andrà in scena Fabio Concato l'inizio dell'evento è previsto per le ore 21 per informazioni bisognerà rivolgersi al botteghino dalle 17 alle 20 oppure chiamare i numeri di telefono 0933 911 892 345 58 80 580 Stagione teatrale di Cabaret 2015-2016 al teatro Eschilo di Gela protagonisti degli eventi saranno Ernesto Maria Ponte lasciate libero Lo Scarrozzo e Giuseppe Castiglia il botteghino sarà aperto il venerdì e il sabato dalle 18.30 alle 20.30 prossimo spettacolo con Ernesto Maria Ponte il 17 febbraio prossimo Continuano gli appuntamenti musicali inseriti nel programma Natale 2015 Capodanno 2016 organizzati dall'Associazione Amici della Musica Navarra di Gela preseduta dal maestro Crucifisso Ragona Domenica 17 gennaio prossimo alle 19 concerto del trio Antonella Callea al flauto Lucia di Mora al violino Salvatore Gallio al pianoforte E adesso parliamo di sport partiamo dal campionato di eccellenza il Gela domani sarà di scena ad Alcamo Riprende ad Alcamo la cavalcata verso il primo posto in classifica per il Gela nel torneo di eccellenza domani la formazione bianca-azzurra cercherà di conquistare l'intera posta in paria dopo il pareggio della settimana scorsa in casa con la Folco Resilinunte che ha interrotto una striscia di tre vittorie di seguito un match quello previsto all'elio Catella della cittadina trapanese con inizio previsto per le 14.30 che assume una connotazione importante in merito proprio all'alta classifica i gelesi del tecnico Totò Brucculevi accusano infatti un solo punto di distacco dalla capolista san-cadaldese che domenica scorsa fortunatamente non è andata oltre il pareggio in trasferta con il Mussomeli dunque la situazione è rimasta invariata ma attenzione la formazione è tanto cara al presidente Angelo Tuccio troverà sulla sua strada un avversario in ottima salute avanti al pubblico amico si esalta i bianconeri sono reduci dalla vittoria in trasferta per 1-0 a Mazzara si trovano a quota 27 punti in gradatoria in pieno centro classifica ed ambiscono al raggiungimento della zona playoff partita dunque da prendere con le dovute cautele l'alentore biancazzurro dovrà fare a meno del difensore Fabio Campanaro squalificato rientra Runza che ha scontato l'ultimo turno di stop pronto al rientro anche il centrale Russello scontato inoltre l'impiego in mezzo al campo di Capitano Bonaffini ancora in dubbio tre piedi all'ondata finì 3-0 per il Gela anche per domani in terra trapanese è prevista la presenza di tifosi biancazzurri quest'anno così come sempre i supporters non hanno mai fatto mancare il loro apporto la partita di domani è il prologo alla sfida della domenica successiva al Vincenzo Presti il Gela sfiderà la Sangataldese per un derby molto sentito e il cui risultato sarà determinante per il primo posto domani i Niseni se la vedranno in casa con il Mazzara mantenere un solo punto di distacco dalla Sangataldese fino al big match di domenica 24 gennaio prossimo sarebbe importantissimo per Pandolfo e Sochi ed in promozione invece derby al Presti tra Atletico e Macchitella vediamo stracittadina domani la Vincenzo Presti nell'ambito della terza giornata di ritorno del torneo di promozione in programma a Atletico Gela Macchitella Gela un derby molto atteso ed il cui risultato sarà importante in merito agli opposti obiettivi da raggiungere da parte dei due club la gara avrà inizio alle 15 gioca in casa la formazione gelorossa del tecnico Peppe Misiti azzardare un pronostico trattandosi di un derby stracittadino non è mai facile da un lato c'è l'ambizioso Atletico Gela che punta al salto di categoria in eccellenza ed in serie utile che vuole i tre punti contro i cugini biancorossi per proseguire la rincorsa alle prime due piazze della classifica occupate dalla Capolistanissa e dalla vice Licata dall'altro lato un Macchitella Gela che vuole allontanarsi in fretta dalle zone calde della gradatoria generale e che intende allungare la striscia dei risultati positivi che vede l'undici di mister Mirko Fauciana riduce da due vittorie di fila tra i tanti temi interessanti di questo scontro fraticida c'è sicuramente quello che riguarda un ex di lusso come il bomber Liborio Scudera che ha fatto per tanti anni le fortune del Macchitella Gela e che domani invece giocherà per dare un grosso dispiacere alla sua ex squadra visto che ora indossa la casacca giallorossa della Tratico Gela il derby tuttugelese di promozione sarà arbitrato dalla signora Riccardo Leotta di Acireale che per l'occasione verrà coadiuvato dai guardalini Matteo Cardona e Michele Raspanti entrambi di Catania è uno per tutti il film in programmazione al Cineteatro Antidoto di Macchitella a Gela sono tre gli orari 17.30 19.30 e 21.30 salviamo il salvabile invece è la colmedia brillante che la compagnia Sipario 21 e l'associazione Demetra porteranno in scena oggi alle 21 al Teatro Eschilo di Gela la regia è affidata a Maurizio Nicastro abbiamo concluso anche per oggi grazie per averci seguito appuntamento alle prossime edizioni grazie a tutti Grazie a tutti